La gioia di essere qui comunque con il popolo nero-azzurro ricorda il legame profondo di Esteban Cambiasso con l'Inter? Ciao, buonasera a tutti, sì, è un piacere. Io dico quando uno vive le cose in diretta e sta attraversando i momenti da calciatore, sicuramente l'affetto fa molto piacere, ma è molto più grande ancora quando passano gli anni e uno capisce che c'è questo sentimento d'amore da parte dei tifosi, vuol dire che abbiamo fatto delle cose fatte bene che sono rimaste nella storia, nella mente, ma soprattutto nei cuori del tifosi. Alla fine noi gran parte del nostro lavoro la facciamo per questo, perché dobbiamo rappresentare i tifosi dentro il campo e quando uno trova questi attestati di stima dalla gente di tutta l'Italia, ma anche all'estero, tante volte quando ci capita di vedere italiani all'estero, è una grandissima soddisfazione, ma vuol dire che abbiamo fatto un lavoro fatto bene. Cosa vuol dire per lei essere interista? Difficile di spiegare, penso che è difficile per tutti quanti spiegarlo. Io sono da adozione interista, è vero che non sono nato come tanti di quelli che saranno qua dentro all'evento, ma per me vuol dire, soprattutto vuol dire che ho rappresentato bene i miei tifosi. Io credo che quello per un calciatore sia tanto, perché alla fine se un tifoso si vede rappresentato, se un tifoso compra una maglia con il nome di un calciatore, perché si sente rappresentato, è molto molto importante. Per me adesso che vado a San Siro dopo tanti anni e ogni tanto riesco a intravedere qualcuno con la maglia 19 dopo tanti anni è una soddisfazione grossa. Qual è il suo ricordo più bello in campo? Beh, ce ne sono, ce ne sono anche bruti. Il ricordo più bello è scendere e dare il massimo. Non avrei mai immaginato aver fatto tanti anni con la maglia e l'Inter, è vero che è un sogno, è vero che uno sempre vuole giocare una grande squadra, ma tanti tanti anni così ininterrotti, come ho fatto dieci anni con tantissimi trofei, anche con delle sofferenze, ma quelle sono parti del percorso. Diciamo, uno sa che alla fine le sofferenze sono quelle che fanno sì che uno quando arriva il momento bello sia ancora molto più felice e orgoglioso. L'Italia è la seconda casa di Esteban Cambiasso, possiamo dirlo. In questo momento la prima, diciamo. Ciao ragazzi! Ciao!